cara cuccherina oggi vorrei parlarti di un ingrediente segreto un elemento che non si trova nelle nostre cucine ma dentro ciascuno di noi la passione la massima che ci riunisce qui oggi dice se svolgi questa attività con il 100 per cento della passione allora ti servirà il 50 per cento del tempo rispetto a chi imbezza il 100 per cento del suo tempo ma senza passione questa frase potrebbe sembrare semplice ma racchiude in sé una verità profonda sul modo in cui lavoriamo e viviamo la passione è la scintilla che accende l'innovazione è il vento che spinge le vele dell'immaginazione è il carburante che alimenta il motore della perseveranza quando mettiamo passione in quello che facciamo ogni azione diventa più mirata ogni decisione più rapida ogni soluzione più vicina la passione ci permette di vedere oltre gli ostacoli di trasformare le sfide in opportunità e i problemi in piattaformi di lancio per il nostro successo ciò non significa che possiamo raggiungere i nostri obiettivi lavorando la metà del tempo piuttosto significa che il tempo speso con passione è di qualità superiore perché è un tempo in cui siamo completamente immersi profondamente coinvolti e vivamente attivi nel nostro lavoro la passione ci rende efficienti efficaci e soprattutto ci rende felici quindi vi invito a chiedervi cosa significa per voi lavorare con passione come potete accendere quella scintilla ogni giorno ricordate la passione contagiosa si diffonde da persona a persona infondendo energie ed entusiasmo in tutto il team in tutti i nostri clienti in conclusione la passione è più di un semplice sentimento è una dichiarazione di intenti un impegno verso l'eccellenza e un viaggio verso la realizzazione come cuceriani abbiamo la responsabilità di coltivare questa passione ogni giorno perché quando la passione è presente il tempo lavora per noi e non no per il tempo grazie per l'impegno la passione che mettete in tutto ciò che fate siete voi la forza motrice di questa meravigliosa avventura che è il magic cougar